Una pensionata nissena di 97 anni ha subito un furto da 6.000 euro da una sconosciuta che si era finta la madre della vicina di casa. Con questa scusa infatti la malvivente ha bussato a casa della pensionata per farsi aprire. Proprio in quel frangente l'anziana donna ha ricevuto una telefonata dalla nipote e si è allontanata per rispondere. Un'occasione propizia per la ladra che si è subito messa all'opera cercando la refurtiva e purtroppo ha trovato terreno fertile in camera da letto, rubando diversi gioielli e anche poco più di una ventina di euro in contanti. Quando la pensionata ha chiuso il telefono si accorta che l'ospite non c'era più. La stessa nipote della donna aveva sollevato dei dubbi quando la nonna le aveva raccontato della singolare visita e proprio quest'ultima ha allertato i carabinieri che sono arrivati rapidamente sul posto. La pensionata è comunque riuscita a fornire una descrizione della ladra spiegando che si trattava di una donna italiana di circa 50 anni, di corporatura robusta e con capelli scuri. Meno precisa la descrizione del viso, visto che l'autrice del furto, sicuramente per rendersi il meno possibile e riconoscibile, indossava una mascherina. I carabinieri stanno adesso indagando per risalire all'identità dell'autrice del furto.